Il Palazzo Comunale di Paola 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 è un programma redatto dalla Consulta Comunale per i festeggiamenti del sesto centenario di San Francesco di Paola. L'organo consultivo si occupa di redigere il programma delle celebrazioni per il sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola, coordinato da Maria Pia Serranò, consigliere comunale e presidente della terza commissione.